Avete ragione quando hai detto che i maschi sono tutti bastardi! Ah, allora sei entrata anche tu nella grande famiglia delle ragazze disperate, vedi? Allora, forse sei pronta per ascoltare una storia. Che storia? La storia di Sabina. Ma chi è Sabina? Non l'ho conosciuta, però Paula c'è uscita. Dicono che dopo quello che è successo i genitori l'hanno trasferita. L'hanno beccata a scuola a fare qualcosa! Ma che beccata! Questa è una storia che ci riguarda tutte con noi come donne. Era una tipa strana, che non si lasciava corteggiare. Dicono che avessi un dolore forte scritto sulla faccia. Dai, non fare la scema, sta un po' sulle sue. A tutti gli uomini di successo piace essere riconosciuti, io lo chiamo. Cioè, tu vuoi dire che quello lì è proprio... ... Fammi sentire adesso Il caldo che cercavo Non sono fatto per essere un ragazzo morto! Mi sembrano tutti i piani quanti di me! Se vuoi morire devi sacrificare Una vita vera! Se vuoi morire devi sacrificare Una vita vera! Da dove spuchi se spette perché non hai paura tu! Ti ho colpito e vuoi ancora alzarti! Non ho lavorato un giorno Non ho provato nell'LCD Non ho superato l'autodistruzione Non ho più visto casa Mi mondo prima che arriva si te! Mi mondo prima che arriva si te! Il mondo prima di arrivassite Il mondo prima di arrivassite